Nessun salasso per l'arretrato, sono previste rateizzazione. Queste sono le rassicurazioni dell'assessore Di Stefano in merito alle bollette del progetto case di cui è ripartita la riscossione delle utenze. Ripresa dell'emissione delle bollette con il calcolo della spesa per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria in base ai consumi reali, rateizzazione del pregresso e nuovo metodo di quantificazione dei costi delle forniture secondo quanto stabilito nella delibera di giunta approvata in comune. Queste sono le principali novità che riguarderanno gli assegnatari del progetto case annunciate dall'assessore Analisa Di Stefano. Finalmente sono state superate tutte le problematiche che non consentivano l'emissione delle bollette per il consumo del riscaldamento ed acqua calda sanitaria, fermi ormai da febbraio 2017, ha dichiarato l'assessore e questo è motivo di soddisfazione. Il risultato ottenuto, ha aggiunto, è stato reso possibile oltre che con il prezioso apporto del servizio riscossioni, canone utenze, progetto case del comune e del SED anche grazie al confronto puntuale che si è svolto in occasione di vari incontri con i soggetti coinvolti e in particolar modo in virtù della proficua collaborazione dei comitati costituiti spontaneamente nei progetti case uno per tutti, quello di Assergi 2. L'assessore Di Stefano ha sottolineato come si sia raggiunto l'obiettivo nonostante le criticità e le enormi difficoltà noti a tutti in maniera di gestione, bollettazione e riscossione per i complessi del progetto case evidenziate nella relazione richiesta al SED e la società partecipata al fine di inquadrare la questione. Alla luce di queste difficoltà si è ottenuta con soddisfazione la collaborazione del soggetto in possesso di tutti i requisiti e competenze tecnico-professionali, ovvero la Gran Sasso Acqua alla quale infatti è stato affidato il servizio di rilevazione della lettura dei contatori quindi si partirà subito con l'emissione delle bollette riferite al periodo gennaio-giugno 2017 seguiranno quelle relative agli archi di tempo luglio 2017-giugno 2018 e poi luglio-ottobre 2018 per poter arrivare per le fatturazioni che decorreranno dai periodi ancora successivi a una bollettazione bimestrale. L'assessore ha precisato che la delibera dell'Aggiunta adottato con la quale è stata via libera al nuovo metodo di calcolo del costo delle forniture di acqua calda sanitaria e riscaldamento tiene conto del subentro della società Antas a seguito di convenzioni stipulata a novembre 2016 il luogo del precedente fornitore del servizio di energia per tutti gli alloggi del progetto case del nuovo sistema di fatturazione a canone. Ne consegue che la ripartizione del costo complessivo della fornitura avverrà in modo uniforme su tutte le piastre ovviamente tenendo conto del numero di alloggi occupati nella piastra e specificando che l'assegnatario pagherà effettivamente quello che consumerà. Da una stima effettuata dal SED è emerso che il valore semestrale massimo di costo dovrebbe attestarsi intorno ai 700 euro. Considerando poi il particolare momento economico e per venire incontro alle necessità dei cittadini si è ritenuto equo a prevedere una rateizzazione delle somme arretrate pari a un massimo di 150 euro mensile nessun salasso insomma per le tasche degli aquilani.